L'idea è un po' questa, la Puglia si trova nel posto giusto al momento giusto, nel senso che è una terra di attraversamenti, sta riscoprendo la sua vocazione di crocevia tra più direttrici di traffico, quella nord-sud che passa attraverso il canale di Suez e Sireca verso il nord dell'Europa e quella est-ovest che ci mette in connessione diretta con il mondo dei Balcani che per esempio nel porto di Bari incontrano già la porta di accesso verso l'Europa. Quindi stiamo scoprendo che il nostro malgrado, indipendentemente dalla nostra volontà, ci troviamo nel momento giusto al posto giusto, con queste infrastrutture di scorrimento di persone e di merci. Allora Puglia-Corsara è un tentativo di dire di che cosa abbiamo bisogno in questo momento per potenziare questa funzione, questa missione di attraversamento e cosa dobbiamo fare perché questo attraversamento produca delle opportunità di sviluppo, di occupazione, di economie nuove per il nostro territorio. Perché le infrastrutture poi fondamentalmente servono a far spostare le persone e le merci. Le persone significa appunto quello che dicevamo poc'anzi, turismo. Le merci significa la nuova economia della logistica lungo queste direttrici di traffico, riuscire a creare dei nodi perché i canali di spostamento delle merci possano essere integrati, e in modo particolare la vera sfida che l'Europa ci pone, l'abbattimento delle missioni e l'intermodalità, riuscire a portare quanta più merce possibile dalla gomma, dai tir al ferro. Questa mattina abbiamo inaugurato proprio una locomotiva di un operatore che sta raggiungendo punti di eccellenza del trasporto su ferro. In Puglia ci sono imprenditori, aziende che stanno venendo fuori, intuendo questa idea che dal porto di Taranto, dal porto di Bari, creando una connessione immediata con la ferrovia, si possono portare le merci nel centro dell'Europa in 30 ore. E questo è un vantaggio competitivo, vantaggio che nessun'altra regione d'Italia... Oltre che soprattutto ambientale. Oltre che ambientale, ha un beneficio ambientale. Adesso il mio pallino con Puglia Corsari è di dire, lungo queste direttrici dobbiamo creare anche dei servizi, perché una parte del valore, quando l'orologio arriva smontato in pezzi, una bicicletta piuttosto che un computer, arriva al porto di Taranto smontato in pezzi, una parte delle attività di collazione di queste merci, di produzione del prodotto finito, possono essere svolte qui in Puglia. La Puglia ha una vocazione naturale in questa attività. Ecco, l'economia della logistica, soprattutto se attenta al lato green, al lato appunto della sostenibilità ambientale, secondo me è uno dei pilastri del futuro della Puglia. Se uno mi dovesse dire, nei prossimi dieci anni, che Puglia immagini, io immagino il turismo e soprattutto la logistica, cioè finalmente mettiamo a valore le risorse di cui disponiamo. Non guardiamo altrove, guardiamo finalmente al posto giusto. Anche perché, come ha detto lei giustamente, possono fare da volano anche per nuove occupazioni. Esatto, esatto, perché l'attività logistica è ad alto assorbimento occupazionale. Per svolgere queste attività di collazione, di smistamento su mercati differenziati, c'è bisogno di molta mano d'opera e soprattutto, la cosa che a me piace, è che si tratta di molta mano d'opera qualificata, servono ingegneri gestionali, operai specializzati, perché c'è un contenuto informatico estremamente evoluto e c'è una capacità ormai che viene richiesta a tutti i trasportatori, una capacità di controllo delle emissioni e della ottimizzazione degli spostamenti per abbattere le emissioni che, diciamo, fa parte della nuova logistica. Speriamo che l'università si adegui e riesca a stare al passo. È una sfida di tutto il territorio, una sfida nella quale devono stare gli enti locali con le loro politiche pubbliche, in modo particolare la regione, devono stare gli imprenditori, perché devono capire che in questa direzione c'è una possibile nuova area di attività economiche su cui investire, devono stare le università, perché stiamo parlando di un settore che ha una dinamica di innovazione tecnologica molto spinta, che va accompagnata, e deve stare anche il governo nazionale, appunto, mettendo a disposizione delle risorse per colmare quel gap, quel differenziale di infrastrutture che separa ancora il nord dal sud. In questo senso, diciamo, la sfida di Puglia Corsari è essere agili, essere rapidi, fare squadra per intercettare le opportunità che oggi si danno e che magari tra due anni se non abbiamo fatto nulla saranno da qualche altra parte. Quindi bisogna, può smetterla di lagnarsi, smetterla di rivendicare le responsabilità reciproche, rimboccarsi le maniche e provare a fare un gioco di squadra, perché la Puglia può farci. Adesso andiamo un po' nello specifico. Partiamo, noi siamo il circolo di legamento e Bari, partiamo da Bari, quindi da tre questioni prettamente baresi. Uno, il nodo ferroviario. Si è letto in questi giorni che i soldi ci sono, non ci sono, forse parte, non parte, non si sa. Due, il famoso biglietto integrato, perché una città come Bari, a vocazione metropolitana e a centratore di traffico, soprattutto da fuori per anche questioni lavorative, non ha un biglietto integrato alla fine. I trasporti non sono integrati fra di loro. E tre, proprio di conseguenza, a Bari manca una cosa importantissima, cioè quella che in tutte le città, anche le più piccole, è la stazione dei bus extraurbani. Ci sarà mai questa... Allora, hai citato tre punti delle dieci priorità di Puglia Corsari, perché Puglia Corsari in fondo dice, se le infrastrutture in questo momento servono per innescare il processo di sviluppo, allora priorità a quelle infrastrutture che sono connesse a questo obiettivo, non un elenco infinito di strade per indurre ancora... La macchia di alopardo che si faceva tanto tempo fa. Ma provare a dire quali sono le cose essenziali che servono per la Puglia. Numero uno, l'alta capacità Bari-Napoli, anzi Bari-Taranto-Brindisi-Lecce, nel senso di portare il tessuto dell'alta capacità tutta la Puglia, dentro tutta la Puglia, in modo da consentire anche l'abbattimento dei collegamenti regionali. E qui, diciamo, significa recuperare competitività al trasporto regionale rispetto al trasporto privato. Numero due, il rilancio della dorsale adriatica, perché sulla dorsale adriatica si gioca un pezzo importante della nostra logistica. Diciamo, la Galleria dei Cattoli, che una volta alzata, consentirà di sperimentare, e noi siamo pronti, di sperimentare in modo assolutamente innovativo l'autostrada viaggiante. Prendere i tir, metterli sui treni e portarli fino a Bologna, piuttosto che fino ad oltre il Brennero, in modo tale che c'è anche una qualità del lavoro che migliora, oltre che una qualità ambientale. Numero tre, il nodo ferroviario di Bari. Il nodo ferroviario di Bari è un'operazione molto complessa, che vale 900 milioni di euro, di cui 395 appunto sono il finanziamento già assegnato dal PON Trasporti, quindi dalle risorse dell'Unione Europea, che devono essere spese entro il 2015, il resto dovevano essere, gli altri 600 milioni, dovevano essere assegnati dai mitici fondi FAS che non sono ancora arrivati, per cui c'è uno scivolamento dei tempi legato all'incertezza del finanziamento. Adesso su questi 600 milioni noi abbiamo l'intenzione di rilanciare la priorità nell'ambito del piano per il suo difetto. Sui 395 milioni di cui si sono occupati i giornali negli scorsi giorni, in realtà c'è stato un disguido determinato da una discutibile valutazione dei tempi da parte di RFE, che ha mandato una previsione dei suoi tempi al 2020 per entrambi i progetti. Noi chiediamo ad RFE, lo formalizzeremo dopo domani, mercoledì, in una riunione che terremo presso il Ministero delle Infrastrutture, chiediamo ad RFE di stringere il cronoprogramma solo al collo di Bottiglia, al collo d'oca, la parte meridionale, dei 395 milioni, perché lì il progetto preliminare è praticamente finito, manca solo l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali, si può mandare al Cipe e basterebbero sei mesi per edigire i progetti definitivi su quello fare l'appalto integrato. E quindi ce la si farebbe per... I tempi sono assolutamente compatibili con le scadenze, quindi noi mercoledì contiamo di ottenere una approvazione del cronoprogramma attraverso un'intesa formale tra RFE, Ministero e Regione. Quindi è chiaro che i tempi non sono infiniti, ma io dico in questo tempo la variabile tempo non è più una variabile illimitata, è una risorsa scarsa con cui bisogna fare i conti. Bisogna imparare a fare presto e bene. Sulla parte invece settentrionale, quella dei 600 milioni, proprio qualche sera fa sono stati in un'assemblea piuttosto vivace dei cittadini di Santo Spirito Palesi, ci sono ancora secondo me irrisolte problematiche tecniche, perché non si può pensare a un interramento che preveda ad oggi un abbattimento di 70 immobili. Spieghiamo che il piano prevede un interramento dei binari. Tra Palesi e Santo Spirito. Per sortire un effetto molto positivo di eliminazione della ferita che divide in due quelle due città, insomma, proprio impedendo anche un'adeguata accettabile... Però internando le stazioni si creano altri problemi... Si creano problemi, diciamo, piuttosto rilevanti rispetto al tessuto urbanistico, così come è dato, appunto, la previsione di un abbattimento di 60-70 immobili, un'altra sera in prima fila erano propri proprietari, c'è un impatto sociale piuttosto rilevante. Io credo che su quello bisognerà ritornare, magari approfondendo la possibilità di individuare delle soluzioni tecniche... Però, come diceva giustamente lei, iniziare... Iniziamo, iniziamo. Mettiamo in salvo lo stralcio sud e lavoriamo per migliorare, per affinare, per trovare le risorse dello stralcio settenzionale. Infomobilità, invece, ha a che fare... Il nono obiettivo, la nona priorità di Puglia Corsara, ha a che fare con il biglietto unico integrato. Io penso che quello sia l'obiettivo che, come assessorato, dobbiamo perseguire, per far fare al sistema del trasporto pubblico locale una sorta di salto di qualità, diciamo, strutturale, una sorta di evoluzione copernicana. Perché significherà? Significherà sostanzialmente il nodo ferroviario, l'infrastruttura che consente, il nodo ferroviario è l'infrastruttura che consentirà di integrare tutte le reti. Noi oggi abbiamo quattro reti, staccate, fratturate tra di loro, con il nodo ferroviario, incominceranno a dialogare. Un treno potrà passare da una rete ad un'altra senza soluzione di continuità. Bene, nel momento in cui tutte le reti fanno parte di un unico servizio regionale di trasporto, a quel punto è assolutamente fisiologico consentire ai cittadini pugliesi di passare da un servizio a un altro con un unico biglietto. C'è bisogno di una tecnologia che consente di dialogare e quindi calcolare anche la competenza per ciascun fornitore. Il progetto di infomobilità è quello che ci dovrebbe consentire di arrivare ad una piena integrazione anche dal servizio, integrazione di infrastruttura, integrazione del servizio. Ma è stato realizzato in altre città? Credo che non sia così difficile realizzare. Io ho un'ambizione ancora più ardita, nel senso che vorrei realizzarlo sul sistema regionale, cioè dare la possibilità a un cittadino di Apricena di mettersi in treno con la ferrovia del Gargano e di arrivare ad Alessano senza chiedersi con quale fornitore e quanto costi. La ringrazio per la sua spiegazione. Abbiamo visto che i progetti per il nuovo giorno dei trasporti pugliesi finalmente sono stati messi e sono stati finanziati quasi tutti, bene o male, almeno in parte. Allora, con questo pacchetto che andrà in giunta proprio nei prossimi giorni, noi ci presentiamo alla trattativa con il governo Berlusconi, il ministro Fitto, nell'ambito del quale noi consideriamo realistiche le risorse che chiediamo, nel senso che se ci sono i soldi questi dovrebbero essere gli obiettivi da perseguire. Perfetto, ringraziamo l'assessore Minervini e ci vediamo alla prossima puntata. Salve a tutti. Salve a voi. Grazie. Grazie.